Col Diretti Salerno informa che la regione Campania ha aperto la misura Vendemmia Verde per la Campagna 2013 a sostegno del settore vitivinicolo. Il bando prevede a fronte di un contributo a superficie la distruzione o eliminazione totale dei grappoli non ancora giunti a maturazione, azzerando la produzione del vigneto. Il scopo della misura, fanno sapere da Col Diretti Salerno, è quello di mantenere un equilibrio tra domanda ed offerta, diminuendo la produzione vitivinicola e privilegiando le produzioni di vini di qualità che hanno maggior mercato. A fronte di questa pratica i produttori riceveranno un aiuto forfettario ad ettaro che in ogni caso non potrà essere superiore al 50% della somma data dai costi di eliminazione dei grappoli e la perdita di reddito conseguente. L'entità del contributo forfettario è correlato alla tipologia di prodotto e l'aiuto previsto va da un minimo di 1200 euro ad un massimo di 3100 euro ad ettaro. I produttori interessati potranno presentare la domanda rivolgendosi agli uffici della Col Diretti fino al 31 maggio. La dotazione finanziaria per la Campagna 2013 è di circa un milione di euro.